Il Taranto torna allo Iacovone dopo 73 giorni, lo fa con un successo meritato a spese del Francavilla in Sinni, risultato netto 2-0 tutto nel primo tempo. La terza attua è il mini turnover, come promesso, soltanto tre cambi rispetto alla gara di Altamura, nella prima frazione c'è tutto, qualità, ritmo e gol, si parte al sesto minuto con le azioni di nota, cross di Guaita dalla destra, colpo di testa debole di Falcone. Un minuto più tardi, anche meno, Tissone prova la conclusione ravvicinata, ma senza successo. Il gol giunge al decimo minuto, tutto nasce da una punizione di Marsili, spinta corta di testa della difesa, e Falcone prende la mira e centra l'angolino lontano alto. 1-0 primo gol in campionato per il numero 11 rosso-blu di Mesagne. Quattro minuti più tardi, la reazione del Francavilla in Sinni con una punizione dell'ex Galdian parata da Sposito in volo plastico. Al trentatreesimo giunge il raddoppio e Marsili a siglarlo direttamente su punizione nei pressi della bandierina. Beffato cefariello, 2-0 e gara in archivio. Al trentaseiesimo DAB protagonista, prima perde palla sulla trequarti, poi sui piedi di Vurkmirovic, quando il croato stava concludendo a botta sicura, si immola e salva la propria porta. A cinque dalla fine, tiro di Falcone, che si libera dal limite ma viene respinto in corner. Nella ripresa poco nulla da raccontare, ancora Falcone con un tiro a giro sull'esterno della rete. Al settimo una sgruppata di Diaz, che però conclude debolmente le azioni di cronaca. Si concludono con un tentativo di matute dal limite dell'area, pallone che termina sul fondo. Grazie a tutti!